Come hai avuto l'opportunità di avere questa opportunità anche perché io sono italoamericana e non vivendo là io ci tenevo molto comunque a provare a fare la cheerleader perché là è una cosa molto importante anche fare la cheerleader, è una cosa che dà energia alla squadra. La chicana americana di dove, di che è stato? Chicago, Illinois. Quindi tieni per il Chicago Bulls, mi sbaglio? Il Chicago Bulls, sì. Il Chicago Bulls Il Chicago Bulls